ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco le niva gix a cosa serve le niva gix a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per ginecologia altri è commercializzato in italia dall'azienda safi medical care srl informazioni commerciali titolare aga in life italia srl concessionario safi medical care srl categoria di appartenenza dispositivi per ginecologia altri confezioni le niva gix 10 ovuli vaginali le niva gix one a dei 5 ovuli vaginali 2,6 g indicazioni le niva gix a marchio registrato one a dei ovuli vaginali agisce nel controllo della sintomatologia quale prurito bruciore rossore correlata agli stati infiammatori della mucosa vaginale aiuta ad attenuare gli effetti irritativi dei microtraumi della mucosa vaginale anche in caso di vaginite atrofica causati da manovre strumentali contraccettivi locali agenti chimici ed attrito agisce inoltre nella normalizzazione dell'iperreattività della mucosa vaginale dovuta a stress termico o chimico e come coadiuvante alle terapie antisettiche descrizione e caratteristiche dispositivo medico classe per la normalizzazione dell'iperreattività della mucosa vaginale a base di punto a punto g punto a marchio registrato ed acido ialuronico avvertenze non usare le niva gix a marchio registrato one a dei ovuli vaginali su piaghe e barra o ferite aperte o secernenti ed in caso di ferita infetta si sconsiglia l'uso nei pazienti ipersensibili ad un opi a componenti presenti in le niva gix a marchio registrato one a dei ovuli vaginali interrompere l'uso in caso di irritazione o di effetti indesiderati e consultare il medico il farmacista non ingerire evitare il contatto con gli occhi in caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua utilizzare negli adulti validità 36 mesi la data di scadenza si riferisce al prodotto integro correttamente conservato non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso non utilizzare se la confezione è danneggiata conservare a temperatura ambiente non oltre i 25 a gradi in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore o luce solare diretta non conservare in frigorifero e non congelare il prodotto componenti e ingredienti semisintetic glicerides fatti acids group punto a punto g punto a marchio registrato palmitic acid oleic acid stearic acid linoleic acid n 2 idroxietil hexadecanamide malva extract bisabolol menti lactate sodium ialuronate tea tree oil vit e acetate azzulene fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato